Segui l'Aquilone, Atelier Vacanze Tour Operator. Per le tue vacanze senza pensieri, Atelier Vacanze. Garanzia, affidabilità e prezzo. Segui l'Aquilone, questa è la canzone di Atelier Vacanze. Volare leggero nel cielo azzurro e poi verso un alco ballero che porta fino a qui. Atelier Vacanze, la vacanza su misura per te. Grazie.